Abbiamo affatto gli strumenti utilizzati per raggiungere tale obiettivo. Siamo di fronte a un provvedimento rozo, malfatto, di dubbia costituzionalità e con norme penali eccessivamente generiche che in quanto tali non ottengono deterrenza e non fanno crescere la cultura della legalità. Inoltre le pene troppo alte, se non percepite come eque, non hanno un reale effetto di deterrenza ma servono solo a soddisfare i giustizialisti. Anche l'eccessiva discrezionalità, specie di interpretazione che le norme di questo provvedimento attribuiscono al giudice, sono lesive di garanzie fondamentali per i cittadini e questo dal nostro punto di vista non può essere positivo. Per tutte queste ragioni, e non certo perché non siamo sensibili nei confronti all'esigenza di una rafforzata tutela dell'ambiente, diamo una valutazione negativa sulla proposta di legge e disposizione in materia di delitti contro l'ambiente. Grazie. Grazie a lei, onore del Paese. È scritto a parlare l'onorevole Piso, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. I reati ambientali sono stati fino ad oggi un pericolo astratto, in genere collegato al superamento di valori soglia e aventi per lo più carattere contravvenzionale. Il provvedimento in questione contiene una innovazione significativa, consistente appunto nell'abbandono del modello del reato contravvenzionale, introducendo quello del delitto evento, del delitto di danno al bene ambiente. Il testo che ci accingiamo ad approvare ha superato questa previsione limitata e insufficiente, introducendo nuove fatti specie di reato, inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo. Sono stati sollevati dubbi e perplessità, direi in parte anche legittimi, sulla reale necessità di introdurre nell'ordinamento nuove fatti specie di reato, producendo, speriamo di no, una ridondanza in questo senso, soprattutto trattandosi di condotte non tipizzate e da alcuni definite e generiche, ma riteniamo di aver ottenuto in questo caso il sufficiente grado di certezza richiesta nel diritto penale, individuando la necessità di un danno effettivo come elemento caratterizzante di questi reati. L'esame delle Commissioni nel tempo ha tenuto peraltro conto delle risultanze di un intenso ciclo di audizioni che hanno permesso di apportare delle migliorie al testo che è qui in discussione. Ad esempio, sia con riferimento al delitto di inquinamento, l'articolo 452 bis del Codice Penale, che a quello di disastro ambientale, articolo 452 ter, è stata eliminata la condizione per la quale, per poter configurare i reati, occorreva la previa violazione da parte dell'inquinatore di norme penali o amministrative specificamente poste a tutela dell'ambiente. Il nuovo testo prevede, come necessario e sufficiente, che l'autore del fatto abbia agito abusivamente. Tra le novità, anche l'inserimento di alcuni aggravanti per l'inquinamento ambientale. Nel caso in cui dal reato dovessero derivare dalle lesioni personali fino alla morte di uno o più persone, le pene combinate potranno triplicare fino a un massimo di 20 anni. Rispetto al testo approvato precedentemente dalla Camera, in Senato è stata aumentata anche la riduzione di pena prevista per i reati di inquinamento e disastro ambientale. Se questi sono commessi per colpa, anziché per dolo, passata da una diminuzione da un terzo alla metà, a una diminuzione da un terzo a due terzi. Un'ulteriore misura di contemperamento riguarda la misura della confisca, la cui applicabilità effettivamente era troppo estesa, prevedendosi anche per danno ambientale colposo. La disposizione introdotta oggi prevede che l'Istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduta alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello Stato dei luoghi. Per cui riteniamo un provvedimento equilibrato, di cui si sentiva per certi versi sicuramente la necessità e che speriamo, all'impatto con la realtà che si premura di andare ad ordinare, trovi un riscontro positivo. Ma se questi sono alcuni degli aspetti positivi di questo provvedimento, diciamo che in alcuni casi, a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, si sono introdotti elementi, come dire, di disturbo negativi rispetto alla possibilità complessiva di questo provvedimento. E faccio specifico riferimento al reato, poc'anzi ricordato più o meno da tutti i colleghi, quello relativo all'AirGam. Il Senato ha accolto contro il parere del Governo un emendamento che introduce l'articolo 452 Quaterdeces del Codice Penale, che punisce, con la pena della reclusione da uno a tre anni, chiunque per le attività di ricerca e di ispezione fondali marini finalizzati alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'AirGam o altre tecniche esplosive. Allora, attenzione, perché su questa tecnica non soltanto sono insorte, come qualcuno ha ricordato, le aziende che si muovono nell'ambito della ricerca degli idrocarburi, ma anche, come dire, istituzioni scientifiche di un qualche rilievo, pensiamo per esempio al CNR. E oltretutto questo voler penalizzare per l'utilizzo di questa tecnica soltanto le aziende che si muovono appunto in determinati ambiti, a nostro modo di vedere, introduce una qualche discrasia che, credo, verrà accolta dalle aziende in questioni, rischiando di andare a produrre un contenzioso piuttosto sostenuto. Spero, speriamo, che nel frattempo si riesca a porre rimedio a questa situazione non certo esaltante. La norma penalizza fortemente l'attività di esplorazione e produzione pretolifera e rischia determinare la chiusura delle attività upstream a mare, investimenti previsti o già partiti in impianti e servizi per oltre 10 miliardi, oltre a tagliare fuori filoni di ricerca nei quali sono attivi numerosi enti. Si tratta di una misura in contrasto con quanto avviene in quasi la totalità del resto del mondo, che considera l'Airgun una best practice e l'acquisizione sismica dei dati una tecnica indispensabile per la conoscenza del sottosuolo. Dagli Stati Uniti fino all'Europa, ribadiamo, questa tecnica è ammessa e viene utilizzata, come dicevo, poc'anzi non solo a finalità di carattere legata appunto al profitto, ma anche per quanto riguarda attività di carattere scientifico. Non potendosi modificare la norma qui alla Camera, per i motivi che poc'anzi i colleghi hanno ricordato, ovvero la necessità di dare a questo provvedimento una velocità di cui si sente appunto bisogno e peraltro che ci viene anche ricordato dall'Europa, non potendosi appunto modificare la norma qui alla Camera, Area Popolare preannuncia la presentazione di un ordine del giorno volto a superare questo problema e restituire la necessaria capacità di stare sul mercato delle imprese estrattive con sede sul territorio nazionale. In conclusione, questo provvedimento costituisce un passo in avanti doveroso e necessario, e crediamo sinceramente in questo, nel cammino verso un progressivo e sempre più profondo riconoscimento del valore e del significato dei beni ambientali e della loro adeguata protezione e tutela che si inserisce nel quadro normativo europeo e che è fondamentale nella lotta alla criminalità ambientale, anche assicurando adeguati strumenti e nella speranza che si riesca a porre rimedio a quelle discrasie che, come dire, hanno prodotto elementi di negatività all'interno di un provvedimento altrimenti sicuramente positivo. Grazie. A lei è iscritta a parlare l'onorevole Maria Stella Bianchi, che è a facoltà. Grazie, grazie Presidenti. Colleghi, abbiamo oggi di nuovo all'esame alla Camera un provvedimento molto importante. Inizio con due date che sono, secondo me, molto significative. Lo abbiamo approvato questo provvedimento alla Camera in prima lettura il 26 febbraio 2014, il Senato lo ha approvato in seconda lettura il 4 marzo 2015. Se stavamo cercando un esempio per poter motivare tutto l'impegno che mettiamo sulle riforme costituzionali e sul superamento del bicameralismo perfetto, ce l'abbiamo esattamente davanti ai nostri occhi. Tanto più che si tratta in questo caso di un disegno di legge e di iniziativa parlamentare che ha una sostanziale piena condivisione da parte delle diverse forze politiche presenti in Parlamento. Come già ha ben spiegato il relatore per la maggioranza Bazzoli, questo disegno di legge introduce un nuovo titolo nel Codice Penale che riguarda i delitti contro l'ambiente, in particolare introduce come delitti finalmente l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica e ispezione dei fondali marini. Il testo del provvedimento è rimasto sostanzialmente invariato dal Senato, un motivo per cui forse tutto quel tempo poteva essere speso in maniera diversa, ma insomma rimane sostanzialmente invariato nel Senato per cui ci sono ancora norme molto importanti come quello dell'obbligo per il condannato del recupero, ove possibile del ripristino dello stato dei luoghi, il raddoppio dei tempi della prescrizione sui quali poi spenderò qualche altra parola, la previsione della confisca.